Ok bentornati ce l'abbiamo fatta Veloce e indolore E andiamo avanti Se no YouTube si incazza e non va bene Vediamo con cosa si è aggiornato il nostro amico salendo le scale Potenza di fuoco Manco poca E basta perché non posso venderti gli occhi Non valgono un cazzo Una lampada ma non è completa La maschera con capitane o due pensa ma non so che metterci Eh prova a metterci gli occhi Però ti posso vendere per certo gli spinelli e le lacrime viola Prova a metterci gli occhi verdi nella maschera No Una proprio forma diversa Sono triangolari qua sono Non capisco perché non ti fa mettere gli altri occhi Eh neanch'io però vabbè Soldi per ottimizzare qualcos'altro La capienza E beh ci guadagno cinque colpi Dai Apriti apriti Riprendere va bene comunque Quadro non si tocca Qui c'è un qualcosa di veramente brutto Eeeh Allora questa è carica La mitraglietta no Fucile a colpi non ne ho proprio Prima o poi devo prendere anche la mano Da Quella è da prendere Questa è tadetta Questa è una nuova Lefe Mi Ciao Forza Io A Communications Ehm... Certo, obiettivo. Tutti ganades. Vuoi no? Allora, qui non c'è nulla. Qui c'erano proietti per pistola, se non vedo bene. Esatto. Qui non si apre niente. Non rompiamo perché è bello, non si rompe. Allora apriamo... Ehm... Cazzo puoi... Sì. Potrebbe... Mi serve... Almeno abito di pigliarmi delle frecce infopate nel petto. A caso. Guardate, i suoni che vanno scogliere... Esattamente quelli migliori. Sotto. Tre colpi. C'è coltello o c'è il buche? Qui serve il coltello. Si dice usarlo è meglio. Sarebbe bello avere un colpo di fucile per l'amico... Da sopra. Minchia a posto siamo. Già. Aspetta, fammi fare un attimo un po' di alchimia. Sì. Questo può essere più vero. Sì. 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 Sono troppo inquietanti i suoni che fanno, no? Sì. Sono... Questo pezzo è un po' così. Sì. Penso che devi passare dalla... No, no. Devo salire. Ok. Il problema è che uno di questi... questi punti... c'è qualcosa di molto brutto. matalo. Matalo! No, questi non matano. La maschera è in testa. Sì. Può sparare nel petto. che era qualcosa di scappa e basta. Quello aveva una balestra in mano, vero? Sì. Due colpi... e ora lo destiniamo... Ah, no, non è una balestra. Ah, no. Vabbè, sembrava per il fuoco dietro. Minchia. Cioè, serio? Non è morto? No. Non è morto. Non è morto. Tutti! Non è morto. Tutto il scappa è bassa adesso. Sì, lo so che c'è l'amico qua. Nicchia. Però. Non so più, dove è andata? Allì. No, l'altro amico, quello vestito di nero che aveva la massa incastrata. Ah, buh. L'unico problema, sì, l'ho visto, l'unico problema è che, come ti dicevo... Eh, beh. Ok. Va bene. Non va molto bene, è un colpo. Cuda difficile da prendere. L'hai preso. Con un pottuto colpo. Scusa, tu di però, è un po' inquietante, per favore muori. Ok, la galleria era... Questa. Non mi pare... Qui son venuto. No. Ma non aveva niente. Tizio, la chiave. Solo la chiave. Che cosa vuoi? Da qua pure, ci sei già passato. Sì, sì, ma è quella che non si apriva... Ah, ok, ok, ok. Ma che cosa cosa sia? Sì, 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 sì. Ma non si può essere. Ma non si può essere... O calvo. Ma non si può essere. Ma non si può essere. Ecco tutto il proprio comune l'occhio. apri i vasetti un altro vasetto in realtà potrei abbinare queste due non sono troppo ferito però allora il sacrificio di 6 vite forse è la nuova luce sono quattro sei otto due quattro sei sette troppe quattro sei sette questo due no tipo il cubo di ruby sto coso intanto ho sempre risolito due facce no era quattro tre due quattro no shit son tre di là devi tenere i due singoli fuck uffa non ci devono essere quelli da tre eh Io purtroppo con queste cose non sono bravo, ma non lo sarò mai. Si è l'azzar che sembra un gigante. Portivo più male. Come tutti gli altri, il poppeto dei Parasiti? Sicuramente non pensi che sono la stessa come i ganati diminutivi. I Parasiti, i Plagas, sono scambi alla mia wille. Io ho un controllo absoluto. Beh, non mi dico una d***a. Rain o shine, ti vai a d***a. Quello è un po' meno carino, i due palestrieri... American friends, d***a. Sono co... Come c***a le amate un giro di cosi? I parla di cosi... I parla di cosi. e 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 ma gesù ok catroia e e e e e no i lanciarazzi no beh anche lui è morto non ti fermare no li vado a prendere quanto corrono no cos'è tutti quei lanciarazzi? e lei è una balestra anche questa è una balestra sta fermo che e ok ok Oh no, avevano solo un radio Mi hai rispinto la freccia Quella è un'erba Eh sì Erba mia Erba mia una mia di merda come cazzo è possibile non è arrivato il messaggio come non è arrivato il messaggio ho visto che qualcuno ha scritto con la chatta rocca bene buona saperti che ho una chatta che fa finta di funzionare aspetta io stavo ancora giocando eccoci qua porca di mi dai qualcosa? no non so di egoista di merda vabbè posso anche ah giusto è da aprire prima quella roba il come è un po' meno chiaro perché non me lo ricordo c'era un tasto non mi piace qua non mi piace ah ok mi piace già un po' di più no niente la chatta è proprio proprio stupida guardo in maniera alternativa ah che difficoltà sto giocando è normale il massimo consentito da al primo playthrough purtroppo e me ne sono già pentito io avrei dovuto mettere facile perché il mio fegato già ne sta risentendo allora il pulsante questo si preme e lì dentro c'è lanciarati ah te l'hanno fatto vedere anche lì dentro c'è lanciarati ogni tanto ne hanno uno solo sono città soli? no no semplicemente ne hanno uno solo se non ti figlia saltare giù no io voglio saltare di fronte no no vabbè no puoi saltare giù e come Cristo ci arrivo io ah mi sa che devo allungare qualcosa forse non mi guardo la mappa dietro a sinistra no dietro a destra in realtà qui porta non ce n'è quindi penso sia semplicemente giù c'erano soldi è impressione mia anche qua ci sono soldi no questi sono semplici cocci questa porta è dove sono sceso mentre questa non posso andare ok quindi tutto bene sbatti leggere i messaggi in questo modo ma c'è una porta su questo piano c'eri di fronte e dietro un bottone ah è quel bottone lì l'ho fatto il bottone e questa porta è quella che scende qui bottone non ce n'è uno l'ho premuto qua sicuramente probabilmente c'è qualcosa di zanzo niente spinelli nope questa porta ok mi ricordo che ci fosse qualcosa che allungasse la pedana non voglio uscire entrate voi esatto entrate voi entrano dite si credo proprio di sì dai dai stai facendo venire mal di male da lì non credo che entravano gran culo ma serio solo quei due ma mi sento preso in giro ma lamentati c'è sì ma io mi aspettavo un'orda di cose per fermarmi invece mi hanno mandato quei due cose e io non c'erano i lanciarazzi per quale cazzo di motivo col quadrato dovresti scendere giù perché c'è scritto per troppe cose con un tasto ah no qua c'è un pezzo della capra porta bianca o porta niente? è quello con la macchina dovrebbe essere quella non bianca ma perché no invece è quella bianca sì quella bianca proseguiamo c'è la macchina di fronte c'è qualcosa di molto brutto se non sbaglio qua qualcosa che riguardava Adam non ricordo bene no si inghiazzo no eh inghiazzo no per favore allora in questo posto torneremo spesso mi ricordo solo questo sinistro destra sinistra ci si può andare destra penso di no in maniera molto semplice c'è scritto infatti e invece eh no c'è qualcosa davanti che vatti che vado a prendere lo spinello giardino si epi labirinto sotto e qua è la camera da letto dove c'è boh mi farei così incontri le cornacchie qua hanno portato a nido un po' di roba preziosa questa porta cioè qui c'è un bel tesoro dentro e ci si va in due mi pare dentro ci sia la magnum non vorrei dire stronzata adesso ma una decina d'anni fa c'era la magnum non so cosa è successo adesso eeeh bello ho puretti di fucile sì due beh quando serviranno saranno in canna ne basta uno fortuna col fucile è molesto questa parte non me la ricordo ma è brutta strano vero strano non me l'aspettavo c'era qualcosa di particolarmente brutto però non no 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 mister Kennedy still alive i see so do you like my garden i see you've managed to work in a little of your twisted taste here too sagacious as i am even i get lost here sometimes even if it takes your whole life you'll never get out do you know that no one dies without the cause you will satisfy the stomachs of my cute pets now if you'll excuse me i have to tie up a few loose ends like chasing down a couple of rats two rats if one's louis who's the other huh they're an intruder besides me e qui c'è un'altra camera no questa è la si la porta era qua esatto due lune ne fanno una va bene ok ne prenderselo una e dove sta andando devo scendere si e da qua non posso scendere avanti ci sono le scale uscire da qua realmente non sarà così facile vuoi per i nemici vuoi per il labirinto i animaletti e per i cani cosa cazzo anche i cani spuntano le cose dalla testa vero non credo eeeh che palle ma perchè ho quella mappa madonna non abiterò mai che l'inventario non è triangolo eeeh niente per ora la prendiamo alla prossima carico carico a fucile vabbè iniziamo ad andare a caso non è nascito da lì vero se non li apri vedi che anche i cani sono fosi per piavria fuck shit oh no che roba che roba che roba c'è stato proprio qua lo so no è la lampadina posso rompere il bulbo delle lampadine e morire da questa da questa la lampadina un po' sempre servire tornare a tornare qua c'è la mano qua c'è il primo tesoro bah che carità è un tesoro un pezzo di luna ce l'abbiamo ma che cazzo di problemi avete ma non fatelo mai più ma andatemela affanculo ma che quanto pericure c'è su un bambino ma e non 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 ma oh beh siamo meglio di un tesoro Perché ho cane Wow E via Via Con due Mi amore che sta cosa è un bugio da canne mozze Non una pistola Ok sono tornato praticamente indietrissimo Quindi se io vado di qua Tecnicamente Dovrei passare dall'altra parte Non sei all'entrata No Dicini no Forse si Oh forse si Oh forse si Nessuno ha visto niente Poi non sono io che mi perdo eh A destra sono andato Penso E a sinistra pure Vabbè andiamo sempre a sinistra però Siamo questa bellissima strategia No non voglio attraversare il ponte però Ripensando ci voglio attraversare il ponte Allora da qua posso buttarmi giù Perché no E non mi conviene cioè perché dovrei Allora qui ho preso un pezzo di luna Se puoi andare a prendere l'altro pezzo di luna che è lì davanti a te Davanti a me A sinistra Scendi lì a sinistra Prendi in giro Ma tu mi sembra che mi prendi in giro Risali sopra E salta giù Qua Sì Ma torna all'ingresso No vai dritto Ma Gli Gli Aspetta ho Eh Ho un attimo impedimenti addosso Eeeh Faccio che è un cervo tu Ma è un cane brutto che se ne è incastrato Allora È lì sopra Ok E quindi Io penso che ci potessi arrivare da lì Ah Tu pensavi Sì io pensavo Tu pensavi male Che qua c'è l'ingresso Ok Ok Vedi qua è dove ho scondato la porta Sì Non mi fare confondere più di quanto io non lo sia già Va bene Cioè se qua c'è il portone d'ingresso E tu mi hai fatto buttare qua Esattamente Che senso avrebbe? Nessuno Eh Esatto Scusa La mappa non Non è segnato Fanculo Lo è segnato C'è la scala dall'altra parte Quindi io devo andare Devo realmente buttarmi di qua Perché accorgio Però continuo a guardare ogni due secondi Perché se no sto un quarto d'ora E poco è A fare sta cosa in continuazione Quindi qua Non ricordo male Destra A giudicare dai felini dietro Canidi Canidi Ti dici felini Devo dire canidi Non sono felini Questi sì Siamo arrivati Benissimo Adesso corri Senza neanche girarti Vai dritto Ed esci Da questo posto Di merda Qua non No eh Non credo Non si sa mai Quando ci prova Allora Le lune Erano qua Perfetto Non mi entrare in camera da letto Mi riposo un attimo Ciao Allora Putz le 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 Putz le le Where I can see Sorry But following a lady's lead Just isn't my style Putz le le Now Now Bit of advice Try using knives next time Works better for close encounters Si conosco Certo Certo Sì È ancora vivo Wesker Wesker Certo che è vivo Perché non dovrebbe Non lo so Perché dovrebbe essere morto Questa cosa Perché è cattivo Eh allora sì Allora un attimo Vediamo da quanto è Quanto è che Stiamo facendo sta roba Uptime Botta è andata in pensione o non funziona completamente la chat Sì Secondo me è la seconda Secondo me è la seconda Sì Ok Bene Io pensavo di avere delle cose funzionanti Ma No Quanto pare non è così Almeno non dà lì Ottimo Quando tu pensi di fare le cose bene In realtà non succede un cazzo Bene Uptime Non wartime Ah Sto incazzato Ok Infatti adesso funziona 37 minuti e 3 secondi Ma non possiamo anche Dare avanti Dare avanti Eh lascia aperto lì Sì Sì Questa camera No Non dirmi che non c'è spazio per le munizioni per pistola Ma si scemo Mi serve l'ambulante Gli devo vendere roba No Perché Non ho proprio colpi Neanche in canna E ho carico Ho voglia che mi servano proiettili Ti pare che possa scegliere Grazie ambulante Amico mio Ciao Welcome Welcome Cosa mi vendi di bello e nuovo eh 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 Niente Allora io ti devo vendere Un po' di granate Dovresti comprare la valigetta nuova Non posso Però forse Direi di si Direi di si Non è troppo più grande Però mi da quei Per pochi In realtà tanto pochi slot Non so Inizia a servire Inizia a servire Con le armi che hai Allora ci sono robe nuove per In realtà niente di utile Cioè la velocità di ricarica si Madonna quanto aumenta Cioè da 1.93 a 1.17 Vuol dire che è instant È quasi quasi Tipo maxata Manca solo la capienza Vero Avevamo una mitraglietta La uso parecchio No Anche questo in realtà Si trovano anche tanti Tanti proietti Non lo so Però la mi terrei da parte roba Tieni da parte Mi sa di stupido Però mi terrei da parte roba Della città di fuoco Ma sì dai Potenziamo completamente La redmine Ma dai La sento così E la macchina da scrivere Non c'è No C'era il solo d'amico Pare che tra no Si sia un'intrusa Vabbè Nessuno sa da che parte sta Oh Soldi Con perle E rubini Ma non ci puoi mettere niente Dici che è completo? Perché se è completo Sono tanti soldi È bello È completo Sì Senti 12.000 Pettacce Vendi Però magari parlo anche E a zia ha detto che potenziamo la redmine Va va Basta Perfetto Questo non si apre Qua non si apre nulla Questo non si apre Basta Allora E basta Sì Saludiamo Altre dieci minuti possiamo farlo Vediamo E di qua praticamente abbiamo bloccato tutta la rovina dall'altra parte Perché non è più accessibile il percorso di là No in realtà è ancora accessibile Però può essere molto più breve Qua succedeva qualcosa di strano Barra brutto Barra Qualcosa Qualcosa di non piacevole Ma non ricordo esattamente cosa Aspetta Sistemare l'inventario Ho fatto l'espansione Mettiamo Queste cose all'esterno In modo che rimanga Anche Questo spazio qui Proiezzi Li incastriamo qua In realtà mi ha dato tantissimo spazio Quella espansione È una riga e una colonna in più ma È tanto Sì sì No 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 Ho quanto spazio c'ho adesso No Questo Stiamo qui In modo che qua rimango serio Questo lo scendiamo E qua è tutto libero Insomma Un po' tanto più spazio Un po' tanto tanto più spazio Sì Decisamente Perfetto Sarò anche un po' più in pace con me stesso Ma qua succedeva una cosa brutta La carne per sapere il tempo potenzioso Su questi quadri non mi ricordo che c'entrassero qualcosa Allora c'era il tirabersaglio c'entrava Ah vedi per aprire Devi sapere cosa Allora probabilmente si c'entrava nei quadri Cosa Cosa sparare? Un ultimo bicchiere La bottiglia si rompe La carne per assaporare il tempo concesso C Con il pane inizia il passo della vita Pane carne Bicchiere Bottiglia Io direi pane Carne Dessert Bicchiere Che poi devo fare questo? Boh Secondo me il bicchiere direttamente Pensavo fosse un po' cosa doveva sparare in ordine Porca puttana la magnum dov'è? Da comprare Se non muoio ora non muoio da più Oh cazzo Che è fatto? Per quello tutto la magnum dov'è? Perché non ho manco erbe? Cazzo Cazzo Non puoi ucciderli? Sì Quello che stavo facendo prima che mi ficcasse due frecce nel cuore Tutto rotto Io mi ricordavo che questa parte fosse Fatti quella è veramente brutta La mia testa dov'è? No È andata Ma che cazzo di gioco No 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 non posso sapere quello che è io non ci credo che devo stare per forza non mi ricordo onestamente ma secondo me non puoi aprire ovviamente gli sparo si si infatti non è cambiato sono vivo sono vivo è cambiato è cambiato così perlomeno hai un po' più di sparo oh no in realtà potrei proprio correre si infatti penso potresti proprio andartene o usciverlo così eh ma non so se lo taglietti così ti attacca questo è un po' più fai per forza dici che non gli faccio niente così fare dai andrei no ma troppa roba utile ma invece mi sa che gli facevo danno 15.000 mi ricordavo fosse sensato ucciderlo poi il sensato è relativo ovviamente dipende poi il buonsenso cosa ti fa fare esatto bene a sinistra è dove non sono mai stato e adesso di dritto è da dove sono venuto quindi andiamo a sinistra sarei voluto scappare esercitamente qui è pieno di amici io ho un trattamento da riservare agli amici ancora via nooo suale Sì, è il mio ultimo colpo. Altri cinque. Siete vivo veramente. Ora è morto. Io c'ho un'armeria qui dietro. Questa musica però... Non mi piace. Non particolarmente. Non voglio farlo. Sto andando qualcosa da sopra. Ah, ma si stava il fronte. Come ti ho questa porta di spalanca? Ah, tanto. Tu cosa faccio vuoi? Quanti sono? Da dietro. Uno. Ma vedi che ti stacca? Adesso si è. E ho detto che era ancora vivo. Sono evoluti. Sì. Sì, 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 sì. tanto si aprirà ah ne ho colpiti di doppietta no questo è fucile se ce li ho carichiamola secondo mi serve se non è sempre scarica bestemmio questa la usiamo perchè è ancora tutto in mano però non dovrei però c'è l'armeria qua in realtà altra roba c'è nella teca ti ricordavi mi ricordavo fosse dentro qualcosa esatto non c'è l'azzo dovrei riuscire a sistemarlo stando un po' si vorrebbe starci adesso ci mettiamo la cura di turno comunque ancora una discreta quantità di spazio per proiettili vari si aspetta tutto un'azzo niente non droppi bastardo non droppa pezzo di merda era la porta lì ovvio che è la porta qui ma devo risalire in qualche modo è la porta qui ma devo risalire in qualche modo è la porta che ti tratta? Allora, pulizia, roba nuova ne ho qualche spinello, si eh, questa, ah l'ho presa, l'hai presa dal box e non l'hai ancora guardata, esatto, eh sai un po' di panico l'ho rubata molto in fretta e in furia, esatto No, non è da decorare, è già figa e basta Che cosa mi vengono? Moligetta extra Bella costosa Minchia, quanti riquadri mi dai in più? Bella costosa 8x15 anziché 8x, eh No Sono 24 slot in più, non è poco Eh, risparmiela prendo, con lanciarazzi sono messo male, se poi voglio anche la magnum Da, non ti ci sta più Mi serve Va bene, al solito, li assettiamo un attimo il timer e torniamo tra poco Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti